Buongiorno, come state? Qua fa caldo già a quest'ora. Allora abbiamo una buona novità, gli uccellini che sono nati non sono due ma sono tre e noi siamo super contenti e sono bellissimi. Va bene vai mamma, fai il grattino e via. Oh oh. Oh oh. Adesso dico. Un bagno adesso. Cosa? Sì. Cosa? Io c'hai, ecco, cominciamo. Cominciamo a correre il video del nove e via. Aspetta se è storto, vedi qua. Eccola, vai. Bene, cominciamo. Buongiorno e buona giornata a tutti. Ecco. Allora, il primo è una foglia. Le ciliegie. Un bel fiore. Una palma. E un arcobaleno per due. Poi facciamo la seconda. Una palma. Il cocco. L'albero. Una nuvola. Una nuvola. E una farfalla. Andiamo più giù. Allora. Una pianta. Due piante. E tre piante. Qua vediamo. Per cinque. No. Un picco. Eh. Allora. Cosa mamma? Questo. Ah. Ti capito? Due volte. Almeno. Madonna. No. No. Fammi vedere. Allora. La palma. E dove c'è la palma? Porca miseria. Porca miseria. Allora. Eh. Però. La palma. Ecco. Bene. E dopo? Eh. E l'arcobaleno. Cos'è l'arcobaleno? No. E la farfallina? No. No. E dopo sotto? Sotto cos'è il cocco? Cos'è l'albero? Eh. E cos'è una nuvola? Eh. E metti. Strucca il premio. Il premio cos'è? Quanto? Il premio. Il premio. Non ti c'è da... Clicca. Far qua anche. 10. Quedo fa. 20 euro ti c'è vinto. La madonna. Eh. Ora. La madonna e la madonna. Bene dai. Ciao. Non avrei mai detto. Mi sembrava. Ah? Non avrei mai detto con questi qua piccoli. Uff. No. E pure. Guarda. 10 euro qua. E 10 qua. E 10 qua. E 10 qua. 20 euro. Bene dai. Bene. Bene bene dai. Bene bene dai. Ecco. Ragazzi. Abbiamo vinto. E siamo molto contenti. Eh. Sì sì. Au. E' schifo sempre dei qua. Saluta mamma. Buona giornata a tutti. Ciao. Ciao. Andate a faceggio. E via. E via. E noi andiamo al mercato a prendere le galline. Ciao da Benito anche. e adesso andiamo fuori a vedere il lavoro di ieri che è andato avanti. Aspetta. Hop. Ecco qua. Andiamo a vedere. Andiamo a vedere. Andiamo a vedere. Beh. Qua i topi di sicuro novi in più. Eccola. Vi sarà 20 centimetri di beton i topi qua. Ciao. Ecco. Vi saluto e vi auguro una buona giornata. Ciao. Ciao. Grazie.